Buongiorno, mi chiamo Rossi Francesco, sono il direttore tecnico della BitCop di Modena. Siamo qui a S per la settimana della biarchitettura biadilizia, sul quale abbiamo presentato l'attività che la cooperativa BitCop fa nel campito del risparmio energetico da diversi anni. Sono circa otto anni che certifichiamo le nostre case col protocollo volontario di Casa Clima, seguendo il concetto che la migliore energia rinnovabile che esiste sul nostro pianeta è quella che si risparmia. E noi abbiamo capito che si può fare delle case molto confortevoli usando poca energia. Nel corso di questi otto anni a BitCop ha realizzato ormai circa 40 edifici per 380 alloggi, tutti certificati nelle varie classi di Casa Clima, dalla Bia, dalla A fino alla nostra sede che è in classe Gold. Abbiamo in programma di realizzare prossimi interventi con lo stesso standard.